Nei giorni scorsi i finanziari del nucleo mobile della tendenza di Fossano hanno individuato due esercizi commerciali fossanesi presso i quali venivano posti in vendita a prodotti di vario genere, privi dei requisiti di conformità e sicurezza stabiliti dal codice del consumo. I militari, all'esito dei controlli condotti sui prodotti presenti nei negozi, hanno proceduto al sequestro di oltre 5.000 articoli prevalentemente provenienti dal mercato asiatico, detersivi, dentifrici, accessori per auto, bigiotteria, casalinghi, prodotti per la cura della persona nonché componentistica e supporti informatici e telefonici. I prodotti in argomento presentavano etichette in lingua straniera o non contenevano le indicazioni considerate obbligatorie dalla normativa italiana, relativa alla loro provenienza, al superamento dei diversi test di sicurezza e del controllo sanitario, alla loro composizione, nelle specifiche concernenti le istruzioni e le avvertenze per l'uso rivelandosi, pertanto, potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti. Gli esercenti responsabili delle violazioni di legge, identificati in due cittadini cinesi, sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Cuneo per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, che possono arrivare sino ad un massimo di 25.823 euro, per ciascun esercizio controllato, oltre al provvedimento di confisca e distruzione delle merci pericolose. Alle ore 22.30 circa di sabato 5 aprile a Carasco due malviventi non armati approfittando della momentanea uscita del proprietario dalla propria abitazione. Lo hanno bloccato e dopo una breve collutazione si sono fatti consegnare la somma di 5.000 euro in contanti per poi dileguarsi. La vittima, dopo aver consegnato i soldi, è stato legato. Una volta riuscito a liberarsi ha dato immediatamente l'allarme. Dalla testimonianza della vittima del furto i due avevano un accento dell'est. All'interno dell'abitazione si trovava anche la madre del proprietario. I militari di Carasco hanno attivato prontamente le indagini anche tramite le telecamere presenti in zona. Un momento di condivisione e di confronto tra il candidato sindaco Giuseppe Rossetto e cittadini intervenuti all'inaugurazione del punto d'incontro di Alba Civica in corso l'ange 45 ad Alba. Malgrado la pioggia, molti gli intervenuti che hanno voluto manifestare appoggio e simpatia a Rossetto, che ha ricambiato l'abbraccio con i concittadini e ha voluto esprimere con poche ma sentite parole le motivazioni e gli obiettivi della sua candidatura. All'inaugurazione erano presenti tutti i rappresentanti delle liste collegate e molti candidati. Il punto d'incontro di Alba è aperto a tutti i cittadini per confrontarsi con i candidati e rappresentare le loro istanze al candidato sindaco. Il Movimento 5 Stelle di Cuneo organizza per sabato 12 aprile il primo Movifest in piazza Virginia. Dalle ore 10 e mezza per tutta la giornata la popolazione avrà la prima vera opportunità di conoscere e parlare direttamente con sei cittadini eletti alla Camera e Senato di Battista, Dadone, Scibona, Della Valle e Sorial, Irola. Sarà presente il candidato presidente della Regione Piemonte Davide Bono e tutti i candidati della provincia di Cuneo alle prossime elezioni regionali. Politica, informazione diretta e occasione di festa con musica, balli dal contemporaneo zumba al classico tango. Passando per la breakdance tanti banchetti informativi e giochi di una volta con prezzemolo. Core Cuneo Safety 2014, l'esercitazione di maxi emergenza svoltasi a Carruc, La Vesana, Farigliano e Dogliani il 4 e 5 aprile. Ha coinvolto oltre 600 volontari del sistema 118 e protezione civile, 10 ambulanze, 3 automediche, 2 fuoristrada attrezzati per interventi di protezione civile, 3 posti medici avanzati di primo livello e 2 autocarri logistici. Mario Raviolo, direttore della centrale operativa 118 della provincia di Cuneo e della struttura regionale di maxi emergenza. Abbiamo partecipato con operatori del 118 di Cuneo e della maxi emergenza all'esercitazione organizzata dall'AMPAS, che tra l'altro ha previsto per la prima volta anche l'interessante sperimentazione dei Google Glass, cogliendo l'opportunità di addestrare le personele a operare in ambienti difficili, di notte e di giorno, per accrescere sul campo una professionalità che è a servizio dei cittadini coinvolti nelle emergenze. Continuano le anteprime di scrittori in città e questa volta protagonisti saranno i colori di Pao all'anagrafe Paolo Bordino, artista capace di reinterpretare il contesto urbano in modo creativo e giocoso, ospite della passata edizione di scrittori in città. Tra le sue opere più note i pinguini dipinti sui dissuasori, i pali della luce trasformati in margherita, i bagni pubblici travestiti da lattine della famosa zuppa Campbell. Venerdì 11 e sabato 12 aprile Pao darà libero sfogo alla fantasia sulle pareti dell'edificio del centro commerciale di Cuneo 2 in via Cavallo, sede della biblioteca per ragazzi di Cuneo Sud. Il fine è proprio quello di rendere più visibile e accessibile la biblioteca, lasciando sulla strada un invito colorato a conoscere e frequentarla. Nella mattinata del sabato l'artista sarà affiancato da un gruppo di ragazzi delle scuole medie e il suo intervento si trasformerà quindi anche in un vero e proprio workshop.